Musica Amici telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di RTC Quartarete. Quest'oggi in apertura al nostro telegiornale Cava dei Tirreni. Dopo la presentazione degli interventi finanziati con i fondi del programma integrato per la città sostenibile, per un totale di 11 milioni di euro, analizziamo nel dettaglio quali sono, partendo dal primo macro progetto, che è quello relativo alla realizzazione di un sistema culturale integrato. La realizzazione di un sistema culturale integrato. E' questo l'obiettivo del primo macro progetto in cui si articola la strategia di sviluppo urbano sostenibile in virtù della quale l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ha ottenuto dalla regione Campania l'approvazione del programma che porterà nella città metelliana oltre 11 milioni di euro. Nello specifico, questo primo macro progetto si articola a sua volta in quattro interventi. L'investimento più cospicuo, ovvero di 2 milioni e 186 mila euro, riguarderà il recupero e la rifunzionalizzazione del castello di Sant'Adiutore, che dovrà diventare lo spazio fisico di un museo a cielo aperto, capace di raccontare la storia di un territorio e di un popolo. Oltre ad un restauro della struttura esistente, con in primis l'eliminazione delle orripilanti antenne, per la piena fruizione di un tale percorso di valorizzazione della storia cittadina in chiave turistica, occorrono una serie di interventi materiali finalizzate al recupero dell'accessibilità. Pertanto, il progetto integrato prevede l'intervento sulla gradonata dei cappuccini, storico accesso al castello. Sempre nell'ottica di una valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale, naturale e degli spazi pubblici cittadini, si inserisce l'intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell'eremo di San Martino, per un importo che si aggira sui 740.000 euro. Un altro progetto riguarda il potenziamento delle strutture e dei servizi tecnologici dei locali dell'Ecseca e del complesso monumentale di San Giovanni. Nello specifico, per un investimento di 556.000 euro, si prevede l'ideazione, progettazione e allestimento di un museo virtuale della storia Longobarda e di quattro sale espositive multimediali sulla storia e le tradizioni cittadini, entrambi da allocare presso i locali siti al primo piano del complesso di San Giovanni. Al primo piano dell'Ecseca, invece, sorgerà un museo della ceramica. Sarà ultimato in tempi brevi anche il teatro comunale, dove mancano soltanto gli arredi. Infine, per una spesa preventivata di 150.000 euro, sarà realizzata anche un'app per la fruizione dei contenuti turistico-culturali in forma integrata. Sempre a Cava si è tenuto mercoledì scorso l'incontro tra gli imprenditori che hanno le attività in via arti e mestieri e il sindaco Servalli, l'assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore e il consigliere comunale Franco Manzo per la problematica della mobilità degli automezzi pesanti per il carico e scarico delle merci per conto degli opifici. Con il supporto degli uffici della Polizia Locale è stata trovata una soluzione per conciliare la necessità della messa in sicurezza dell'importante arteria industriale per il transito dei pedoni e quella di mobilità e sosta degli automezzi. Al riguardo ascoltiamo l'assessore senatore che in consiglio comunale era stato sollecitato anche dalla consigliera Clelia Ferrara. Per quanto riguarda gli arti e mestieri, era un progetto di un finanziamento importante insieme a altri due interventi, quello di via Ugo Foscolo e quello di via Le Marconi, quella rotonda che abbiamo realizzato nei pressi dell'ex giudici di pace. Durante la nostra amministrazione abbiamo visto che il progetto che era stato fatto precedentemente aveva delle lacune, in modo particolare per quanto riguarda via Ugo Fosco, dove sia il cimitero, quella strada non è sicura, soprattutto per le persone anziane che frequentano il cimitero e quindi abbiamo deciso di effettuare un es proprio a quell'area, l'area attigua per eseguire poi il marcio a piede secondo le indicazioni di legge. Allo stesso modo, via Arte e Mestieri, abbiamo in qualche modo recepito le sollecitazioni da parte di alcuni cittadini che ci hanno prospettato la possibilità di sistemare la rete fognare della zona e quindi abbiamo dovuto presentare un nuovo progetto, una serie di interventi quindi nuovi che in qualche modo potesse soddisfare quest'altra esigenza. Tutto questo ha comportato dei ritardi che però stiamo cercando di colmare attraverso delle varianti che in questi giorni saranno confermate e quindi immediatamente dopo si effettuano i lavori. A partire da settembre anche il comune di Vietri sul mare diventa plastic free. Vediamo il servizio. Anche il comune di Vietri sul mare diventa plastic free. Questo quanto stabilito nell'ordinanza sindacale dello scorso 31 luglio, affirma del primo cittadino Giovanni De Simone, con lo scopo di preservare le bellezze naturalistiche del territorio della prima perla della costiera amalfitana attraverso la riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e in particolar modo il mare e le spiagge. L'amministrazione comunale, promuovendo l'abolizione della plastica monouso, esorta l'intera cittadinanza, commercianti, privati, associazioni, antipubblici, all'uso di materiali compostabili e o riutilizzabili. In particolare, è vietata la distribuzione da parte dei commercianti ai propri clienti di bottigliette, posate, piatti e sacchetti in plastica. L'obiettivo è quello di ridurre la produzione di rifiuti plastici e il relativo impatto ambientale, disciplinare e incrementare la raccolta differenziata e favorire l'utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bioplastiche. Tale ordinanza, che prevede l'utilizzo esclusivo di stoviglie, imballaggi e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile, entrerà in vigore a partire dal 1 settembre 2019. Per tutti i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. È tuttavia consentito agli esercizi commerciali presenti sul territorio di utilizzare i materiali giacenti nei rispettivi depositi entrano in oltre il 1 ottobre 2019. È sempre più urgente e decisivo accelerare il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza del raccordo Salerno-Fratte-Mercato-San Severino. A invocare un'accelerata è l'ex deputato Tino Iannuzzi. È sempre più urgente e decisivo accelerare il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza del raccordo Salerno-Fratte-Mercato-San Severino, che costituisce il primo lotto del raccordo Salerno-Avellino e rappresenta una sorta di lotto zero e di porta di accesso all'autostrada 2 del Mediterraneo. È trascorso quasi un anno e mezzo da quando il Cipe, nella seduta del marzo del 2018, ha approvato il progetto preliminare del lotto Salerno-Mercato-San Severino, il primo tratto in cui è stato suddiviso il progetto relativo a tutto il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Ed occorrono ancora diversi passaggi prima della concreta apertura dei cantieri. Lo scrive in una nota Tino Iannuzzi, già parlamentare salernitano ed attualmente componente del direttivo nazionale del PD. Ma la terza corsia, la messa in sicurezza del raccordo Salerno-Fratte-Mercato-San Severino costituiscono una priorità infrastrutturale per l'intero paese, perché questo raccordo ha la funzione di collegare il nord e il centro con il mezzogiorno del paese. Noi abbiamo avuto nella scorsa legislatura sia il finanziamento integrale dell'opera per 233 milioni di euro, sia l'approvazione del progetto preliminare da parte del Cipe. Da allora è trascorso un altro anno e mezzo senza avanzamenti significativi. C'è un cronoprogramma che va realizzato integralmente ma con grande tempestività, perché abbiamo bisogno di acquisire il progetto definitivo con l'approvazione in conferenza di servizi e in sede Cipe. Solo così potremo elaborare il progetto esecutivo finale che è indispensabile per appaltare i lavori e poterli finalmente aggiudicare e iniziare. Da questo punto di vista, proprio perché si susseguono troppi ritardi e rinvii e c'è il rischio di perdita dei finanziamenti, dobbiamo voltare pagina ed è necessario che il Governo nazionale scenda finalmente in campo con un impegno netto e deciso, dimostrando non a parole meno fatti che è un'opera che proprio perché è una valenza nazionale viene seguita e viene monitorata con grande determinazione, superando gli ostacoli burocratici e procedurali e marciando con assoluta determinazione e velocità verso l'unico obiettivo che la gente attende. Finalmente iniziare e completare i lavori di quest'opera che costituisce una sorta di lotto zero, di porta di accesso del sistema autostradale nazionale, in quanto collega l'autostrada A30 Caserta Roma alla nuova autostrada 2 del Mediterraneo. È un'opera che è attesa dalla provincia di Salerno, dalla Campania ma anche da tutta l'Italia. Servizio 118 in affanno a sud di Salerno. Numerose le criticità emerse dopo la revoca ad Oras della Convenzione alla Croce Azzurra da parte dell'ASRA. Vediamo. Servizio 118 in affanno a sud di Salerno. Numerose le criticità emerse dopo la revoca ad Oras della Convenzione alla Croce Azzurra da parte dell'ASL. Presso le postazioni, tra gli stessi volontari delle varie associazioni, in molti casi costretti a turni massacranti, sconcerto e difficoltà sono ormai evidenti. Del resto la matematica non è un'opinione. Se prima c'erano tre unitari animative attive sul territorio e adesso invece in servizio ce n'è una soltanto, pare evidente che non è umanamente possibile garantire la stessa efficienza. Nonostante l'ASL continui ad assicurare che non vi sono problemi, la situazione ad oggi, in piena estate, è la seguente. Delle tre postazioni di Salerno, Licinella e Agropoli prima attrezzate di rianimativa, solo quest'ultima è rimasta coperta. Il paradosso è che ad Agropoli è stata però spostata l'unitaria animativa che prima stazionava Salerno, città di 132.000 abitanti che dunque resta priva della preziosa ambulanza. L'assurdo invece è che gli standard previsti dal legislatore per il servizio rianimativo, ovvero salva vita, presuppongono un intervento al massimo di 6-8 minuti in aree urbane e 20 minuti in quelle extraurbane dal momento dell'attivazione. La domanda dunque sorge spontanea. Come può il mezzo raggiungere Salerno città da Agropoli in così poco tempo? E se al momento della chiamata dal capoluogo la rianimativa di Agropoli è già impegnata in un'altra emergenza, chi interviene e in che tempi? Dall'ASL si continua a ribadire che è tutto sotto controllo, ma il quesito vero è un altro. Perché non ha proceduto ad ORAS a convenzionare altre associazioni dotate di rianimative per ripristinarne di nuovo tre sul territorio? Questione di tempi burocratici o di risparmi di bilancio a discapito di un servizio così indispensabile? Perché delle due l'una. Se prima l'ASL di Salerno spendeva una certa cifra per garantire il servizio 118 con tre rianimative attive H24 sul territorio ed ora ne spende invece solo un terzo, affermando però che il servizio è coperto lo stesso in maniera idonea, allora significa che in questi anni ha sperperato denaro? O adesso sta incautamente correndo il rischio di affidare il 118 alla buona sorte, facendo diventare una e trina la rianimativa della Croce Bianca spostata in fretta e furia da Salerno ad Agropoli? In attesa che dall'ASL giungano quindi tale risposte, a sud di Salerno è appena iniziato il mese di agosto, quello durante il quale la popolazione quadruplica, per la presenza di turisti, soprattutto nel weekend. Cambiamo argomento, fervono i preparativi a Sant'Anna per la 28esima edizione della rassegna gastronomica. Torna domani, sabato 3 agosto, la 28esima rassegna gastronomica a Sant'Anna. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Sant'Anna all'Oliveto, in sinergia con l'Associazione Iniziative Socioculturali Sant'Anna, prevede una degustazione dei piatti tipici della tradizione gastronomica locale e preparati con prodotti offerti dall'agricoltura del posto. Siamo giunti a Sant'Anna alla 28esima edizione della rassegna gastronomica, che tutta la comunità di Sant'Anna è coinvolta in questo momento forte dell'anno. È uno dei momenti più belli dell'anno dove ci si ritrova tutti insieme per fare cosa? Per valorizzare i prodotti del territorio. È l'occasione che la parrocchia, le associazioni, tutte le persone della nostra comunità si mettono insieme per dare risalto e dar valore al nostro territorio. Un territorio bello, un territorio sempre fiorente, un territorio che fa uscire cose belle e cose buone. Quindi la rassegna gastronomica serve proprio per dare maggiore rilievo ai prodotti genuini del territorio. Il nostro territorio di Sant'Anna è un territorio ancora genuino e valorizzando un prodotto serve proprio per dare maggiore rilievo che i prodotti buoni ci sono ancora. Quindi vi aspettiamo sabato 3 agosto presso la piazzetta di Sant'Anna per la rassegna gastronomica dalle ore 20. Un grazie a tutti coloro che stanno aiutando, che stanno collaborando, che non fanno mancare il loro aiuto e il loro contributo. Sono sicuro che tanta gente che verrà a Sant'Anna non si repentirà, ne uscirà veramente contenta. La manifestazione, inserita in un calendario ricco di altre iniziative, ha lo scopo di contribuire in modo fattivo alla realizzazione di un progetto di ampio respiro, volto alla promozione e valorizzazione delle attività potenziali che la frazione può offrire e a promuovere la socializzazione e il gusto delle antiche feste paesane, che si svolgevano in occasione dei raccolti stagionali. La rassegna gastronomica Sant'Anna nasce 30 anni fa da un'idea di due soci fondatori, Agnilo Casola e Pasquale di Domenico, che ritrovati in treno mentre andavano all'università ebbero quest'idea di come poter valorizzare il territorio che non conosceva quasi nessuno. Oggi siamo alla ventottesima edizione e abbiamo tante tante cose da farvi vedere, da farvi assaggiare. Abbiamo messo a disposizione della parrocchia tutte le nostre attrezzature, la parrocchia organizza quest'anno, come ha detto già il parroco, coinvolgendo tutti, veramente sono tutti coinvolti in questa manifestazione che diventa una giornata di festa dell'intera frazione. Si potranno costare degli gnocchi al sugo fatti con le patate, pasta e fagioli, salami, cavicollo e formaggio, le frittelle di fiorilli, il pane molle casereccio, miele, nocciole e mandorle, il vino locale e il nocino della nonna. La serata sarà allietata da Baila con Marco, di Marco Bisogno e dai balli pop con Maurizio De Caro e latinoamericano, mentre l'animazione per i più piccoli è garantita da New Champion School, in collaborazione con Anna Di Capua del team Passettini. Inoltre, durante la serata sarà possibile ammirare l'itinerario Antichi Mestieri e l'esposizione di prodotti tipici locali. Sport, calcio, weekend con la Coppa Italia. La Cavese domenica giocherà a Trieste, la Casertana a Catanzaro. Avellino e Paganese al lavoro per il calciomercato. L'appuntamento con la storia per la Cavese si sta avvicinando. Domenica ci sarà la partita con la Triestina di Mister Pavanel. Si giocherà con inizio alle ore 20 per il primo turno preliminare della Coppa Italia e al di là del fatto che i biancoblu si confronteranno allo stadio Nereo Rocco con la squadra che rappresenta il capoluogo della regione Friuli-Venezia-Giulia, il fatto storico è che la maggiore compagine di Cavarei Tireni torna a disputare la competizione nazionale dopo nove anni. I metelliani sono in viaggio per Trieste. In Coppa Italia c'è la panchina lunga, quindi un massimo di 12 riserve da poter portare in panchina. Ci sono i tempi supplementari in caso di pareggio, eventualmente i tiri di rigore. Possibilità di tre sostituzioni durante i tempi regolamentari e in caso di supplementari gli allenatori hanno diritto al quarto cambio. Potrebbero esserci come titolari dall'inizio Sainz, Mazza e Di Roberto a supportare la punta centrale e Loasni, quindi il modulo di partenza sarebbe un 4-3-3, ma attenzione alla sorpresa a Dessi, esterno offensivo che potrebbe trovare anche gli posto sulla fascia. Per gli Aquilotti non arriverà Magrassi, l'attaccante centrale, perché si è accasato alla Virtus Vecomp di Verona. La squadra che avrà avuto la meglio fra Triestina e Cavese andrà ad affrontare il Perugia allo Stadio Curi il prossimo 11 agosto. Al 13, appuntamento con la Coppa Italia anche per la Casertana, che a differenza della Cavese è un abitué di questa competizione, avendovi partecipato negli ultimi cinque anni regolarmente. Avversario della squadra di Ciro Ginestra sarà il Catanzaro, che ha recentemente ingaggiato il portiere Adamunis, ex dei Falchetti, e potrebbe rilevare sempre dalla Casertana il terzino Paride Pinna. La squadra di Auteri ha perso l'attaccante Eugenio Dursi, passato al Bari, quindi cerca un altro attaccante. In casa Rosso Blu potrebbe rinnovare Floro Flores. Catanzaro-Casertana domenica prenderà il via alle ore 19 e la vincitrice andrà in casa della Salernitana nel secondo turno. La Paganese inizierà la stagione l'11 agosto sul campo del Bari in una partita che avrà inizio alle ore 20 e 30. Sarà la prima giornata del girone I della Coppa Italia di Serie C. La formazione di Alessandro Erra, dopo aver preso il terzino destro sbampato e il giovane promettente portiere Campani, ha ufficializzato anche il ritorno del centrocampista Gaeta. L'obiettivo degli Azzurro Stellati, attualmente in ritiro a Gubbio, è proporre una squadra che abbia un'idea di gioco. L'Avellino, inserito nello stesso girone di Bari e Paganese, entrerà in gioco domenica 18 agosto. Avrà bisogno di altro tempo e gioco forza dovrà costruire una squadra giovane, a causa del budget risicato. Gli allenatori Daniele Cinelli e Giovanni Battista Ignoffo sperano che il loro DS Salvatore di Somma riesca a chiudere in queste ore per tre calciatori interessanti, il portiere Dekic e l'attaccante Demirovic dell'Inter e l'altra punta Bianchi del Genoa. Piacciono anche l'esperto portiere del Brescia Andrenacci e l'esterno offensivo Tribuzzi, attualmente al Frosinone, dopo aver contribuito al ritorno dell'Avellino in C. Il telegiornale è terminato, l'informazione di RTC Quartarete ritorna alle prossime edizioni. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.